In posta destra 3-2, tempi, per sinistra 3 taglia, sinistra 3 taglia e destra 3. In sinistra 4 e destra 4, per sinistra 5-50, in posta destra 4-50 e Gicane entra destra, Gicane entra destra. Vai, sinistra 5, per destra 5, per destra 3 e sinistra 4-150, palo luce, tornante destro. Per tornante sinistro, per tornante destro 50, sconnesso e tornante sinistro e poi 100. La pianta in posta, destra 3, 3 e sinistra 3 e destra 4, in posta tornante destro. E sinistra 2 e destra 3, per tornante sinistro 150. Imposta tornante sinistro, tondo e poi 100. Destra 5, per in posta addosso, destra 5, in destra 5-50, destra 6-50, attenzione alle piante, destra 2 taglia, destra 2 taglia le piante. Per sinistra 3 taglia 50, sinistra 5 taglia 50, sinistra 3, 3 e destra 3 taglia molto. Per sinistra 2, 2, per destra 2, per sinistra 3 lunga lunga lunga, 3 lunga lunga lunga, è in posta, destra 3 molto sporco, attenzione. Destra 3 molto sporco, attenzione. 50, sinistra 4-50, destra 4-100, sinistra 4-2, tempi, sinistra 4-2, tempi, per destra 4-50. Imposta destra 3 taglia, attenzione, scende, sinistra 3, 50. Destra 5-100, oh, ho chiuso di qui, eh. Molta attenzione, destra 3, diventa 2, molta attenzione. E sinistra 3, per destra 2, attenzione, stretta, stretta 20. Rosso sinistra 4, stringe 3. Attenzione, e destra 4-20. Rosso sinistra 3, sconnessa. E destra 3, attenzione, continua 3 stretta. E tornante sinistro. Tornante sinistro. Attenzione, 20, compressione. Non tagliare, sinistra 3, non tagliare, 20. E tornante destro, non tagliare, non tagliare. E sinistra 4-50. Dosso e destra 4. 100 sinistri. E rosso destra 3. 3, rosso. E sinistra 3, lunga. 50. Sinistra 4, dosso 50. Attenzione che salta. Sinistra 4, dosso 50. La casa sinistra 3. E destra 4, sporca. 50. Sinistra 3. Sinistra 3. In destra 3 stretta, 20. Attenzione, sinistra 2. 2, quella lì. E destra 3. E sinistra 2, attenzione. E destra 3, taglia. E sinistra 4. E sinistra 3. 3 questa. Per sinistra 3. 3 e destra. E sinistra 3 e destra 2 stretta su ponte. 50. Destra 3. 3. E sinistra 3. E destra 3. Dosso 20. Sinistra 2. Imposta rosso. Sinistra 2. E destra 3. 50. Destra 3, sporco. Destra 3, sporco. E sinistra 4. E destra 4, 20. Attenzione, sinistra 3, 20. E destra 2. 2. E sinistra 3, 20. Sinistra 2, attenzione. Per destra 2, attenzione. Destra 2, attenzione. E sinistra 2, vai. Per destra 3, 50. Alla pianta imposta. Sinistra 4, 50. Dosso. Destra 4, diventa 3. Destra 4, diventa 3. Per sinistra 2, 20. Sinistra 2, 20. Dosso non tagliare destra 2. Dosso non tagliare destra 2. E sinistra 3, 20. Attenzione, destra 2, non tagliare. E sinistra 4, vai. 100. Dopo cartello destra 3. Dopo cartello destra 3. E sinistra 4. E bivio imposta destra 2. Attenzione, 50. Al palo destra 3, 20. E tornate a sinistra, attenzione. Per destra 3, non tagliare. Destra 3, non tagliare. Per palo sinistra 4. E 100 sinistri. Alla staccionata destra 4. Per entra destra Gican. Per entra destra Gican. E dosso sinistra 4. Per destra 5, 20. Imposta sinistra 4, 50. Destra 5, 50. Al palo imposta sinistra 5, 100. E al bivio Gican. Gican molto stretta. Entra a destra. E 100. Giallo sinistra 2, 50. Sinistra 2, 50. E al giallo tornante destro. E poi 50. Di leva. Giallo tornante sinistro 50. Giallo imposta. Destra 3, 20. 3, 20. Imposta sinistra 5, 100. E al rosso tornante destro. Attenzione. Vai, vai. Tornante destro. Attenzione. Al rosso. E poi 50. Muro rosso tornante sinistro. Muro rosso tornante sinistro. Per destra 6. 100 sinistri. E ai pilastri sinistra 5. Non mollare 100. E alla pianta sinistra 4. Ostia. Dosso e il birri destra 3, 50. Imposta rail destra 2. 3, 50. Imposta rail destra 2. E subito. Tornante sinistro. E poi 20. Sinistra. Per tornante destro stretto. E poi 20. Stretto. E poi 20. Imposta destra 3 lunga. Vai. 50. E a rail tornante sinistro. Tornante sinistro rail. E destra 5. 50. Attenzione. Imposta. Sinistra 3 stretta. E tornante destro. Sinistra 3 stretta. E tornante destro. E 20. Attenzione. Sinistra 4. 50. Imposta rail destra 2. Attenzione. Imposta rail destra 2. Attenzione. E 50. Fine prova. E tornante sinistro. Buona. Ma sì. Adesso. Adesso vediamo. Adesso vediamo. Adesso vediamo. Adesso vediamo.